ARAPACIS 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 Giustificazione morale, non solo al sentimento dell'antipolitica, ma anche, sotto sotto, al colpo di pistola. Fazioni politiche antisistema, aree culturali antagoniste, intellettuali che si autodefiniscono il bene impegnato contro il male, giornalisti moralisti, arruffapopoli vari. Tutto fa odio. Pensate, c'è persino riuscita la neopresidente della Camera a fare la giustificazionista fuori luogo. E già, perché quando l'onorevole Laura Boldrini afferma che l'emergenza lavoro fa sì che la vittima diventi carnefice, come purtroppo è successo davanti a Palazzo Chigi, stabilisce un nesso di causa ed effetto tra la disoccupazione e l'idea di andare a sparare i carabinieri, e seppur involontariamente la giustifica. Quando dice che la disperazione si diffonde e prende troppe volte la forma della violenza, con queste parole, legittima la brutalità stessa, le offre una ragione che moralmente la scagiona. Le parole sono pietre, onorevole Presidente della Camera. Si è chiaro, non sto assolvendo la politica fin qui praticata, né i politici che l'hanno fatta. Tutti hanno più colpe che meriti. Sono anni che invuoco la Terza Repubblica, che chiedo un cambiamento forte in politica come in economia. Figuriamoci se difendo l'indifendibile. La delusione e la rabbia dei italiani non è legittima, è più che legittima. Ma il fatto che lo sia non rende accettabile, né saggia la vendetta. Stasera ad Arapacici ci domandiamo quanto l'Italia si è entrisa di risentimenti. Non solo il disprezzo politico, ma anche il rancore sociale, l'invidia personale. Visti dall'esterno, sembriamo un paese sott'odio, che frige nell'odio. Nel mirino degli italiani ci sono privilegi e nepotismo, il che è giusto, ma anche la ricchezza e gli status raggiunti, che non porta niente di buono. E poi sono sempre meno quelli che scommettono su merito e impegno, che credono nel futuro. Probabilmente e fortunatamente non rivivremo gli anni di piombo, che sono stati cosa diversa e peggiore dell'oggi. Ma con i sentimenti, anzi con i risentimenti che ci animano, senza un sussulto delle coscienze e delle intelligenze, di fronte a noi avremo soltanto declino e decadenza. Sigla.